Grazie segretario, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nostra assemblea annuale del 2021, seppur in distanza è comunque un piacere poter rivedere tutte le nostre città slow. Molto velocemente io ringrazio il sindaco di Orvietto, la dottoressa Tardani Roberta, per l'ospitalità, per il saluto e per le tematiche che ha trattato. Filosofia città slow, filosofia non vuol dire solo il saper pensare, ma nel nostro caso, come ha detto correttamente il sindaco, vuol dire saper essere, saper fare, saper migliorare e saper condividere, che alla fine sono i principi fondamentali dei nostri borghi e delle nostre città. E lo abbiamo toccato con mano anche durante questa settimana con i diversi incontri che abbiamo fatto. Un saluto anche ai vari rappresentanti istituzionali che sono presenti in sala, che ci stanno seguendo e ripasso la parola al nostro segretario.